oggi giovedì 16 settembre 2021 io confermo la mia appartenenza al paradiso e gioisco del rapporto con il padre che tramite il figlio mi dona lo spirito di virtù tra speranza fede carità vibra la mia anima con spirito eletto folle di amore per ester giovane spirito di sublime delizia di cui il mio amore può chiedere a quella montagna di spostarsi ed essa seguirebbe il comando sono l'angelo della giustizia mi paleso al mondo con coerenza e rigore verso dio e il prossimo sono governato dal pianeta marte e il mio spirito è guerriero sono abile in tutte le arti di combattimento nella comunicazione scritta e verbale e sorrido spesso perché l'uomo ha bisogno di una luce mi paleso ora proprio per ribadire che cristo il re dell'universo mi governa con cuore trafitto dalla lancia e ardente passione di vivere sono il generale interstellar della galassia di earth e sono qui a comunicare al mondo che l'uomo chiamato federico è un extraterrestre infiltrato nella società umana con lo scopo di aiutare più esseri eletti a raggiungere la terra promessa sono a disposizione per qualsiasi cosa ma pensate che sono votato all'amore perciò ogni cosa che faccio è carità verso il prossimo non abusate della mia pazienza e rispettate il mio rango regale e nobile di eletto a generale di una legione angelica le potestà al mio segnale posso riunire le truppe per rivoluzionare il vostro piano reale nella terza dimensione io federico controllo la materia e sono in grado di illuminazione fare l'evoluzione di un bambino di otto anni in questa terra io ed ester siamo delle cellule unite della salvezza e uniti creiamo l'angelo di dio fusione di vibrazioni femminili maschili tramite il cuore di cristo sto addestrando il mio corpo alla battaglia e il mio intelletto all'apprendimento di tutte le arti sono fiero e speranzoso di dare amore agli uomini e a tutti gli esseri del signore il nazareno io non compenetro federico io sono federico un alieno incarrato in un corpo mortale è cosciente del potere della pace che governo perché io sono federico potente in pace dio mi dà il potere di trasformazione di bilocazione e di tuono sono un guaritore abile è un guerriero formidabile grazie dell'ascolto ora alle 7 e 5 della mattina rido e mi preparo per andare in ufficio